È un punto che ci inorgoglisce perché allunghiamo la serie di quattro partite con risultato positivo e venivamo in un campo molto difficile, una squadra forte, ben allenata e quindi siamo contenti e continuiamo così. Un punto che sa di continuità è quello incassato dal Casarano nel pomeriggio di Altamura in una partita che ha rappresentato il quarto risultato utile di fila per i rossazzurri allenati da Alessandro Monticciolo. Al vantaggio di Rizzo ha risposto Tedesco per un risultato che ha ribadito l'ottimo momento di forma di entrambe le formazioni. È stata una partita equilibrata, io e lei veniamo dalla stessa scuola, ci conoscevamo a memoria, quindi ero convinto che questa era una partita che si poteva giocare sugli episodi. Il primo tempo ci ha detto bene a noi, abbiamo segnato sul calcio d'ancolo, il secondo tempo lo abbiamo subito. Quello del Tonino D'Angelo non è stato un pomeriggio qualsiasi per Monticciolo, tornato in uno stadio che conosce bene e dove ha allenato raccogliendo soddisfazioni. È stato bello, diciamo che mi sono incominciati ad alzare i battiti quando ero nei pressi dello svincolo, poi ritornare allo stadio, vedere comunque tante persone che in questi due anni mi hanno dato una grossa mano, è stato piacevole, è sempre un piacere tornare in questa città. Dal pareggio contro i Murgiani emerge un Casarano con 29 punti a più 2 sul margine della zona play-out, oggi rappresentato dal San Giorgio a quota 27, nonostante il recupero contro il Nardò ancora da affrontare. Allargando lo sguardo ai primi due mesi e mezzo di lavoro di Monticciolo in panchina, si nota che in otto partite sono arrivati 13 punti a fronte dei 16 totalizzati dalla squadra nelle prime 17 gare. Un salto in avanti che riguarda l'attacco, rimasto a secco solo nella sconfitta di misura di Cerignola e che nelle ultime tre gare ha limitato a tre i centri al passivo. Segnali di crescita che andranno confermati domenica prossima in un banco di prova assolutamente impegnativo, la trasferta del Città degli Olivi contro il Bitonto. Grazie a tutti.